Musica Amici, cerasicoltori della Val d'Alpone, buongiorno. Benvenuti all'undicesimo appuntamento del bollettino fitosanitario Cerasicolo d'Alpone. Andamento meteo. La settimana trascorsa è stata l'insegna di un clima caldo. Con la circolazione d'aria e almeno fino a sabato si manterrà questa situazione anche con livelli di umidità sotto la norma. Da domenica, 31 maggio, il cielo si annuvolerà e saranno probabili le precipitazioni anche a carattere temporalesco. Fase fenologica. Si è conclusa la fase degli stacchi delle precoci. Tra poco termineranno anche quelle di Giorgia. Proseguono Celestre, Adriana, Vera. Duroncino con inizio della Greystar. Fra qualche giorno inizieranno le more di alta pianura. Tecniche agronomiche e difesa fitosanitaria. Nelle tecniche di difesa fitosanitaria la prevenzione mediante pratiche agronomiche assume un aspetto particolarmente importante per il contenimento di parassiti fungini e da insetti. Così nel ciliegeto è importante ridurre la stagnazione di umidità mediante sfalcio del codico erboso quando supera i 20 cm di altezza e togliere tutti i frutti maturi. Difesa fitosanitaria. Moniglia. La presenza del patogeno si è fermata con la conclusione della raccolta della varietà precoce. Poi le condizioni climatiche hanno limitato il suo sviluppo. In certi casi si sono visti presenza di infezione. A fine settimana entreremo però in un contesto meteo più instabile che si proterrà anche nella prima parte della settimana prossima. Sarà così necessario e fondamentale assicurare una buona copertura utilizzando sostanze a base di Boscalit, che è un fungicida di contatto con proprietà translaminari, molto attivo o di tebuconazolo, che è un prodotto sistemico che agisce come preventivo, curativo e eradicante, è molto rapido nell'azione. Parassiti animali. Cimice asiatica. In tutta la vallata sono presenti i primi danni di cimice asiatica dovuto alla nutrizione dell'insetto sulle nostre drupe. Furficole e forbicine. In quest'annata si sono riscontrati danni ai frutti prossimi alla maturazione dovuti alle forbicine. Questi insetti dispongono di un robusto apparato boccale masticatore e compiono erosioni sulla buccia e sulla polpa, rendendo il frutto non commerciabile. Oltre ad esporlo maggiormente all'attacco di patologie fungine. Mosciarino dei piccoli frutti. Drosofila Suzuki. Nell'alta pianura, nella bassa collina, la presenza di questo insetto è ancora moderata. È più significativa la sua presenza nelle aree collinari. Mosca delle ciliegie. Proseguono i voli del ditero. È necessario eseguire nei ceraseti un attento monitoraggio. Dove si utilizzano le esche a dulcicide a base di spinosad, si consiglia di iniziare i trattamenti. Difesa combinata parassiti animali. Varietà di medio periodo. Mantenere copertura con prodotti a base di etofenprox è un pietroide con 3 giorni di carenza. Deltametrina o lambda cialodrina. Anche questi pietroidi con 7 giorni di carenza. Varietà tardive. Contro drosofila e mosca, eseguire il primo intervento insetticida con Fosmet, vecchio fosforganico con lunga persistenza. Chantranilliprode, insetticida che agisce su parassiti e ad apparato boccale, pungente, succhiante, masticatore, spinetoram efficace nei confronti di insetti parassiti. Un saluto dal vostro presidente Davide Danese e un arrivederci al prossimo bollettino. 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 Davide Danese e un arrivederci al prossimo bollettino.